Allora, ci potresti pure passare, lo sai? Ce l'abbiamo fatto ancora una volta. Sì, è stata dura, ma anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Willy, c'è il cambio valuta pure. C'è il cambio valuta. Di garanzi, di garanzi. Allora, questo che è? Questo? Questo è un palazzo di merda. Max, un lavoro di questo. Bellissimo. Dove ci troviamo? Siamo a Trieste. Ah, a Trieste, ho capito, dove si fanno tante feste. Trieste è veramente bellissima. È pulita, è bella. Cosa vuoi dire, mamma, a Trieste? Che è bella. Bella a Trieste, ti piace a Trieste. È romantica. Guardate quel palazzo che cos'è. Guarda quello. Quale? Quello là. Quello là. Mamma mia, quanto è bello. Che meraviglia. Sono uno più bello dell'altro. Yeah. È uno spettacolo. Qui è tutto uno spettacolo. Mi prendi il mio yacht? No, il mio yacht, la mia barchetta. Lo yacht l'ho lasciato di là al porto. La barchetta, adesso ve la mostro qual è. Venite con me. Vediamo. È piccolina questa. Poi ho lo yacht personale da giù, verso il porto. Un pochino più avanti siamo quasi arrivati, però insomma è un gabinatello, anche quello. Guarda là. Un gabinatello. L'avete sentito bene? Ha detto proprio gabinatello, vero Willy? Gabinatello. 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 Ci hanno fatto un ponte moderno. Sul gabinatello? Però non ci sta male. È particolare. Hanno fatto una bocca di... Sai che bello un film tutto così, tutto a mano, allontato? Eh? Sì, abbiamo anche un desipare. Sì, prendi i piani così. Tutto girato alla cazzo dei cani. Siamo quasi arrivati, eh? Sì. Cancelliamo. Siamo quasi arrivati. Eccolo là, è quello. Il gabinatello. Il gabinatello piccolo, questo lo uso soltanto per fare i giretti qui in canale. Certo. Mentre giù c'ho proprio lo yachtone. Il yachtone. Eccolo qua, il gabinatello, prego, riprendilo, gira, gira, eccolo qui il gabinatello. Il gabinatello. Ragazzi, siete pronti per girare nel canale? Eccolo. Perché questo l'ho preso basso. Questo è il gabinatello di Nanà. Quanto mi deve entrare sotto il ponte? Gabinatello di Nanà. Sì, è il gabinatello di Nanà e di Paola Pitagora. Soprattutto di, vogliamo dire tutti insieme? Uno, due, tre. Paola Pitagora. Lei, un ciao a Paola Pitagora. Scusate, mi riprendete qua? Qua, qua. Quei colori, anche questi. Colori, anche quelli. Tutto questo è il dito di Nanà. Il dito museo teatrale, ragazzi. Attenzione, meraviglioso. Carlo. Schmidl. Quindi questo me lo dovete riprendere. Carlo Schmidl. Per il teatro. Perfetto. Noi siamo per il teatro. E riprendetemi anche quella chiesa da lontano. La chiesa da lontano, grazie. Meravigliosa. Grazie per averci seguito e ci vediamo nel film. Ci vediamo nella piazza illuminata di... Da non confondere con questo meraviglioso tramonto che vi mostriamo adesso, in esclusiva, per voi. Mi dai un bacio col teatro molto dietro. Vieni, vieni, vieni qua, qua. Vieni, amore. Il sole dietro. Non ci vede una sega con il sole dietro. Non ci posso spiegare niente. Vai col bacio. La. Che meraviglia. Abbiamo preso un bacio. Questo ed altro, se restate con noi, a vacanze degli stella. Adesso devo stare attenta a merda. E' calda. Ok a merda. The Nana's Holiday. Oh, yeah. Bella ripresa dal passo. Ok, you can. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Benissimo, benissimo. Ragazzi, datemi la città di casa. Non scherzate. Andiamo, entriamo. Dov'è la chiave? Dov'è la mia stessa? C'è un riposino, no? Eh? Non ci vogliamo fare un riposino a casa. Tira fuori le chiave di casa. Dai, tira fuori le chiave. Apri. Apri, apri casa. Apri casa. Non c'è la serratura. Eh? Non c'è la serratura. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato la porta. Grandi bleff. Non è questa. È più avanti. È più grande. Grandissimi bleff. Il palazzo è più grande del mio. Grandissimi bleff in vacanza con la Nana. Che ve lo dico a fare? È quello là, guarda. Quello là, quello lì è il palazzo. Quello tutto un po' rosa. Gli ho fatto quel tetto così per la neve. Per la neve l'ha fatto. Mazza che cazzara. Una grandissima cazzara. C'era un complimento. Quasi peggio di... Paola Tittani. Giù che l'ha fatto per la neve. L'ho fatto per la neve. L'ho fatto per la neve l'ha fatto. La mia stessa viva tiene di più, ha una tenuta di grande. Sì, sì, una miglior tenuta per la neve. Grandi cose. Grandi cose a spasso con Nana. Alla prossima puntata. No, non è finita. Ospite in mortale in questa casa Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Lo ricordiamo. La sinfonia di stipendio. Lo ricordiamo Giuseppe Verdi per opere del calibro della Ida. Non la Ida Jespica, ma quell'altra. L'ha creata qui l'Aida. La sinfonia del Verdi. Come no? Un po' come Dalla al Golfo di Amalfi che ha fatto una bellissima mensione. È un po' come Dalla del Golfo di Amalfi. Certo. Vuoi mettere Dalla al Golfo di Amalfi? È come un Verdi nel Golfo di Trieste. Guardala. Guardala Madonna. Non è una foto, ricordiamo. Non è una foto. Grazie. Perfetto così. Non avevo capito. Attenzione perché c'è anche Clotilde in tutto ciò. C'è anche la piccola Pro che è meravigliosa. Eccola qua. Clotilde, eccola qui. Saluta, saluta. Saluta agli amici da casa. Saluta lì. Ciao. Dai. Ciao Clu. Di ciao agli amici. Di ciao agli amici. Ma non ti girare la nostra parte. Dilde. Clotilde tesoro. Niente. Non c'è. Clu non ci risponde. Sarebbe rosso. Ricordiamolo. Domino è rosso. Ma noi passiamo lo stesso. Bene. Allora possiamo salutarvi, ringraziarvi per averci seguito e mi vorrebbe da dire quasi una ok ragazzi. Ok ragazzi. Ricordatevi che ci dobbiamo vedere a piazza in Italia. Ci vediamo a piazza in Italia ragazzi. Un bacio grande a tutti voi. Grazie per averci seguito. Ok ragazzi.